Questa sera quello che faccio è entro nello spettacolo di Tommy musicalmente per dare una vitalità musicale maggiore, live, invece che con tutto il supporto mediatico che c'ha, cioè il supporto digitale che c'ha. Hai detto che sei polistrumentista, quindi suoni vari strumenti. Da quando è nata questa passione per gli strumenti e che tipo di strumenti suoni? Guarda, non mi ricordo da quando è nata, sinceramente. E gli strumenti che suono sono diversi, hanno quasi tutti una caratteristica, che sono strumenti che vengono dal mondo rurale, che sia calabrese o da altre parti del mondo, soprattutto calabrese, ma questa è la caratteristica. Mi piacciono gli strumenti che hanno a che fare con suoni arcaici, con suoni molto ricchi. Ultimamente sta andando molto la ripresa delle tradizioni come anche il liutaio, o costruirsi gli strumenti da soli, anche con materiale recuperato. Tu sei del parere che le persone giovani possano comunque recuperare tradizioni e allo stesso tempo farle diventare nuove? Sì, certo, perché no? Una gente giovane, anzi, dovrebbe essere questo lo scopo della vita di una persona giovane, quello di prendere ciò che trova dal passato, quello che è stato fatto prima che lui nascesse, e migliorarlo. Nel tuo territorio ci sono associazioni, persone che comunque fanno musica e riescono a esportarla al di fuori della Calabria o al di fuori proprio di Crotone? Non è un territorio particolarmente ricco a livello musicale o culturale in generale. Ci sono delle associazioni a livello amatoriale, magari ci sono dei festival estivi che si distinguono in quel territorio, ma musicalmente particolarmente no, non credo. Questa contaminazione che tu hai detto che accadrà questa serata, quindi la tua musica con la comicità di Tommy Terrafino, cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, Tommy è un treno, è un treno che ti travolge, ti porta in un mondo fatto di ilarità, di fantasia, di creatività, un mondo più leggero, attraverso la risata riesce a fare questo e lui secondo me è molto molto bravo. I momenti in cui c'è la parte musicale diventano dei momenti ancora più forti, perché o accompagnati dal canto, strumenti a fiato oppure percussivi, chiaramente aumentano e evidenziano questa forza che arriva al pubblico. Sì, basta scrivere per Luigi Virelli su Google e troverete tutto. Vi consiglio di seguire particolarmente la mia pagina perché è uno strumento su cui potete trovare tutte le informazioni, sia dei tour, dei concerti, delle collaborazioni e delle cose che accadano.